Pataticoltura silana in un contesto di filiera agroalimentare. Il titolo del convegno che quest'anno, come avviene ormai da tempo, ha organizzato la multinazionale Sigenta a Camigliatello Silano e che opera nel settore degli agrofarmaci in grado di fornire soluzioni reali ed innovative agli agricoltori e agli operatori della filiera agroalimentare. Sigenta, questo ormai è un appuntamento consolidato con il territorio e vuole dare il suo attivo supporto a quello che è la gestione, la linea di difesa della patata in territorio silano con un occhio attento a quello che è la pratica della sostenibilità e alle buone pratiche che devono essere messe necessariamente in atto per fare una difesa a norma, che sia efficace e che poi massimizzi il ritorno dell'investimento fatto. Usare la chimica nel pieno rispetto dell'ambiente è una prerogativa di questa importante azienda. Siamo impegnati da diversi anni nel promuovere la sostenibilità. Questo parte ed è stato, diciamo così, messo in pista tramite il progetto Interrafarm, un progetto a livello europeo, dove le aziende, che non sono delle aziende vetrina, ma sono delle aziende reali, dove i concetti di buone pratiche, di sostenibilità ambientale, sociale, economica e la quarta dimensione della sostenibilità, che è quella istituzionale, vengono a fondersi insieme per promuovere le buone pratiche, per gestire quello che è la corretta applicazione dell'agrofarmaco nel pieno rispetto dell'ambiente, dell'operatore e del consumatore. Insomma, oggi è possibile utilizzare la chimica per prevenire determinate malattie, come per esempio nel settore della pataticoltura. Senza dubbio oggi la chimica è uno dei mezzi da utilizzare per, diciamo, fermare delle malattie sulla pataticoltura. È ovvio che però questa deve essere accompagnata da una buona pratica agronomica e l'utilizzo della chimica è nel rispetto dell'ambiente quando è necessario. Nel momento in cui la chimica è necessaria, dopo aver fatto eventuali passaggi con le buone pratiche agronomiche, in quel caso la chimica può dare una mano e darà sicuramente una mano alla protezione della cultura. È importante essere coadiuvati da quelle che sono le tecnologie, perché diciamo questo, noi soprattutto come ordine del dottore agronome forestale, lo diciamo perché la professionalità si vede anche quando un'azienda è coadiuvata dalla tecnologia che ci fa capire quando è necessario intervenire. La patata della Sila IGP ad ogni modo è un prodotto che ormai fa registrare un importante incremento, segno che viene apprezzato dai mercati e soprattutto dai consumatori. Diciamo che il nostro grande interlocutore, cioè il nostro grande controllore, quello che ci stimola sicuramente il consumatore, che se trova soddisfazione in un prodotto come quello che noi stiamo facendo, avremo sempre una fedelizzazione, cioè una fedeltà verso il prodotto. E fino ad ora siamo riusciti a mantenerlo, perché è chiaro, la patata della Sila non è un prodotto comune, è un prodotto molto buono, molto sapido, molto particolare, molto apprezzato. E su questo, unito a un'organizzazione importante, perché anche l'organizzazione e la logistica, la capacità di entrare sui mercati a richiesta in tempi anche abbastanza brevi, e più una capacità di rendere questo prodotto, come dire, più sano possibile, ci dà una grande capacità di penetrazione sui mercati, una grande soddisfazione da parte del consumatore.